Eccoci, allora, nella lezione di oggi completiamo un paio di nozioni sui dizionari, in particolare abbiamo visto ieri gli aspetti di ricerca, cioè estrazione di un singolo elemento, di un dizionario, oggi ci occupiamo un po' della ricerca di elementi, ad esempio ordinamento massimo, minimo, che possono esserci all'interno dei dati memorizzati in una lista di dizionari. Abbiamo visto, e poi chiaramente faremo un paio di esercizi per impaticirci, abbiamo visto che alla fine una struttura dati utile per rappresentare delle informazioni era appunto questa lista di dizionari, io prendo l'esempio che c'era qua sulle slide, che era l'esempio di un elenco di studenti, è una struttura molto utilizzata, nel senso che io uso una lista per raccogliere tutti gli elementi che mi servono, ciascun elemento a sua volta è un record che rappresenta un'informazione e questo record lo rappresento ad esempio, anzi tendenzialmente sotto forma di dizionario, dove le chiavi abbiamo visto sono sempre stesse per ciascun record e mi permettono di distinguere il significato dei vari valori, valori che a loro volta possono essere di tipo intero, di tipo reale, di tipo stringa eccetera, come qualunque campo di un dizionario, quindi è una struttura che si usa molto spesso, ho una serie di dati, li metto in una lista, ma il singolo dato a sua volta è strutturato su più campi e quindi questi campi diventano le varie chiavi valori, i vari item di un dizionario. Noi l'abbiamo fatto ieri, vado a riprendere l'esercizio sui pianeti, ricordate che abbiamo lasciato un pochino in sospeso, lo avevamo guardato usando la classe Dict Reader, dove tutta la lettura di una singola riga di un file CSV che conteneva anche l'informazione sui campi, veniva automatizzata da questo oggetto Dictionary Reader che era in grado di leggere il file CSV, risolvere tutti i problemi di apici, virgolette e virgole, separatori e già addirittura costruire un dizionario, le cui chiavi fossero i nomi delle prime colonne che si trovavano nel file, queste prime colonne qua, le colonne della prima riga, gli elementi della prima riga. Ieri, poi la modifica che ho fatto, dopo la lezione, ci siamo accorti che i nomi delle colonne che erano presenti nel file erano un pochino scomodi, perché erano nomi particolarmente lunghi, allora ho creato il primo problema, il secondo problema è che i dati che in buona parte erano dati numerici, in realtà vengono letti dal Dictionary Reader, poveretto lui, non lo sa, vengono letti sempre e comunque come stringhe. Allora, per risolvere questi due problemi, dal primo punto ho definito il parametro Fill Names del Dictionary Reader, che richiede di indicare una lista con i nomi delle colonne che voglio usare, o meglio, lui assume che le colonne che specifico, quando crea il dizionario, userà quei nomi che ho specificato io, anziché i nomi che sono presenti nel file. E quindi io mi sono creato una lista nomi-colonne con dei nomi un pochino più abbreviati, un pochino più comodi da utilizzare rispetto a quelli che erano presenti nel file, quindi anziché scrivere, anziché dover scrivere density tra parenti di chilogrammi fratto metro cubo, potrò scrivere semplicemente densità come chiave del dizionario. Chiaramente a Python non fa grossa differenza, nel senso che densità oppure density chilogrammi metro cubo sono entrambe stringhe che lui usa come chiave, però è un pochino più comodo per noi, specificarci i nostri campi chiave. La differenza è che se io specifico i campi chiave, allora devo, diciamo così, il Dictionary Reader ipotizza che la prima riga che legge contenga già dei dati e quindi nel caso in cui la prima riga, come nel nostro caso, non contiene dei dati ma contiene delle intestazioni, devo leggere la prima riga e buttarla via, ignorarla. Se invece non specifico i field names e quindi pretendo che lui li vada a leggere dalla prima riga, ovviamente la prima riga non la devo ignorare ma la devo far leggere dal Dictionary Reader. Quindi questa istruzione qua, ReadLine, l'ho dovuta aggiungere quando ho specificato un mio nome, diciamo così, di colonne personalizzato. Questa era la prima modifica, la seconda modifica era una volta che ho letto, diciamo dal mio Reader di file CSV, un oggetto già di tipo pianeta, un dizionario già di tipo pianeta, io ho creato questa funzione ConvertiFloat per far sì che i dati che in realtà dovrebbero essere dei numeri vengano memorizzati effettivamente come float e non come stringhe, l'abbiamo visto la volta scorsa, cioè abbiamo iniziato la volta scorsa questa funzione ConvertiFloat che va a convertire tutte le colonne che contengono dei numeri. Poi in realtà la cosa era un pochino più complicata perché c'erano alcune colonne in cui il dato era incerto e quindi c'era un asterisco, come ad esempio vedete qua, e quindi quando faccio float di questa stringa con un asterisco mi darebbe un errore, allora ho deciso di rimuovere l'asterisco prima di fare float in queste colonne che potevano avere dei dati incerti, così come colonne in cui in alcuni casi unknown non è noto un certo dato. Allora in questo caso, ad esempio nel caso della pressione, sono andato a intercettare il value error, visto che il caso era, non c'era un numero non bastava che togliere asterisco perché c'era proprio una parola chiave tipo unknown al posto di un numero e allora sono andato a intercettare l'eventuale errore di conversione, in quel caso ci metto semplicemente none come valore. Per tutti, qui ho convertito, ho cambiato il valore associato a una certa chiave, quindi le chiavi sono quelle per le chiavi che corrispondevano a un valore numerico, ho sostituito il valore con appunto il numero corrispondente alla chiave. L'oggetto pianeta è sempre lo stesso, cioè il dizionario è sempre lo stesso, ci sono andato a modificare i singoli dati. Questa modifica l'ho fatta solo sui campi ovviamente numerici perché quelli di tipo stringa possono rimanere tranquillamente invariati, non c'è bisogno di farci nulla, rimangono invariati. Quindi tornando indietro, il csv reader fa sì che per ogni stringa, per ogni riga del file venga costruito un oggetto dizionario, quindi questo ciclo for fa sì che ogni volta che il reader legge una singola riga, mi istituisce già questo pianeta che è già un dizionario fatto e finito, quindi crea un dizionario e in questo oggetto dizionario crea tante chiavi, quante sono le colonne, tante coppie, chiavi e valori. Dopodiché all'interazione successiva leggerà la riga successiva e creerà un altro dizionario che contiene i dati della seconda riga, della riga successiva, dove le chiavi di questo secondo dizionario saranno uguali alle prime, ma chiaramente i valori saranno presi dalla riga successiva. Io questo dizionario lo salvo o in una lista, oppure abbiamo creato una lista di dizionari, oppure nella riga 53 abbiamo visto l'altra alternativa, li salvo in un dizionario di dizionari a sua volta, se voglio accedere al pianeta per nome, anziché accederlo per posizione, per ordine. Quindi anche per rispondere ad Alexis, il Dictreader associa ogni valore del file planet a un elemento del dizionario, associa ogni colonna del file a una chiave del dizionario, una chiave di versare al dizionario e ogni volta che itero, la chiave è qua, il trucco è questo, il Diction Reader è un oggetto su cui posso iterare con un ciclo for e ogni iterazione del ciclo for mi dà il dato della riga successiva e questo dato viene già letto e convertito, quindi mi risparmio la lettura e la conversione del dato. In questo caso abbiamo la possibilità di stampare i pianeti, abbiamo visto l'esercizio che abbiamo fatto ieri in cui provavamo a trovare il pianeta con la gravità massima, però immaginiamo, adesso poniamoci un altro problema, di ordinare questa struttura dati, quindi ho la mia lista con i miei pianeti e la voglio ordinare magari per massa crescente o per nome alfabetico crescente oppure con qualche altro criterio. Quindi immaginiamo, visto che eravamo interessati nel nostro esempio alla gravità massima, allora possiamo anche chiederci di riordinare i pianeti in ordine di gravità crescente. Allora, chiaramente questo lo facciamo nell'ipotesi di avere una lista di dizionari, come c'è anche scritto nella slide, una lista di dizionari, se avessimo un dizionario che contiene i dizionari non possiamo pensare a un ordinamento perché le chiavi di un dizionario di per sé non hanno un ordine, semplicemente hanno l'ordine di apparizione e di inserimento, però quando questi elementi, questi pianeti, che sono ciascuno rappresentati da un dizionario diverso, sono inseriti in una lista, io posso modificare l'ordine con cui compaiono nella lista stessa. Se io volessi fare un sort pianeti, che è una lista di dizionario, .sort, per poi stamparlo, mi accorgo che pianeti.sort non si può fare, a un certo punto mi ha dato il messaggio di errore, che è questo, dite attenzione che l'operazione minore, cioè il confronto, non è supportato tra le istanze di dizionario e dizionario, cioè non c'è un metodo predefinito per confrontare due dizionari tra di loro, a differenza di una stringa, che il metodo predefinito di confronto è quello lessicografico, di una tupla che va a confrontare prima i primi elementi, poi a partire del primo va a confrontare il secondo e così via, per i dizionari non c'è nessun criterio di ordinamento predefinito, e quindi la funzione sort non può funzionare. Cosa devo fare? Devo spiegare alla funzione sort qual è un criterio possibile di ordinamento, un criterio possibile di ordinamento che mi permetta dati due dizionari, quindi dati due pianeti, diciamo così, di dire quale deve venire prima e quale deve venire dopo. Allora nel nostro esempio il criterio di ordinamento è vai a vedere la forza di gravità, quindi quando dovrei dire la funzione sort, quando ti trovi di fronte due pianeti, quello minore tratta come minore dei due quello che ha la forza di gravità minore. Quindi in qualche modo sto specificando, guarda, tra tutti i campi che ha questo dizionario ce n'è uno che mi interessa ai fini dell'ordinamento, e quello che mi interessa ai fini dell'ordinamento in questo caso è la gravità. Questo caso specifico si può risolvere con una funzione che non abbiamo ancora incontrato, che è citata qua su questa slide, che fa uso di un parametro opzionale della funzione sort, che è indicato qua il parametro key. Quindi le funzioni sort, quindi sia il metodo sort del list che la funzione sorted che si può applicare anche alle altre strutture dati, accettano un parametro opzionale che si chiama key. Questa key contiene il riferimento a una funzione che estrae la chiave di ordinamento. Questo è un argomento un po' più complicato di quello a cui riusciamo ad arrivare con la conoscenza di Python che abbiamo, perché noi dovremmo passare come argomento non un valore ma una funzione la quale viene chiamata per estrarre un valore. C'è un costruttore linguaggio che si chiama lambda che serve a questo scopo, cioè creare funzioni come se fossero oggetti, come se fossero valori, ma questa parte qua che si chiama programmazione funzionale noi non la vediamo. Quindi in generale non siamo in grado di definire quale deve essere un criterio di ordinamento di una lista di dizionari. Tranne in alcuni casi particolari dove ci sono già alcune funzioni già preconfezionate, predefinite per essere utilizzate come chiave. e una di queste funzioni è la funzione cosiddetta item getter che sta in un modulo che si chiama operator. Quindi in pratica cosa facciamo? Io voglio ordinare i pianeti sulla base della gravità. Questo meccanismo funziona solamente se ho una lista di dizionari, non in altri casi. Allora posso usare la funzione sort specificando una chiave di ordinamento, key uguale. Questa chiave di ordinamento a sua volta è una funzione che per cui nel caso in cui la chiave di ordinamento per noi sia semplicemente uno dei campi del dizionario, e questa è l'ipotesi semplificativa, la chiave di ordinamento è uno dei campi del dizionario, posso usare la funzione item getter che sta nella libreria nel modulo che si chiama operator. Quindi se vado a importarlo lo fa importare della classe operator.itemgetter. Quindi andiamo a vedere cosa ho fatto all'inizio, ho importato la funzione item getter dal modulo operator. Allora in questo caso sto dicendo guarda, la chiave di ordinamento è quella di andare a prendere un campo. Quale campo? Il campo che si chiama gravità. Quindi l'argomento di item getter è la chiave del campo sulla base del quale fare l'ordinamento. Ok? Allora se io facessi questo e subito dopo stampassi i pianeti, togliamo un po' di print sopra che ci danno fastidio, se io facessi questo tornamento e stampassi i pianeti dovrei vedere che questi pianeti vengono stampati, dunque prima c'è Plutone, un po' di cose, poi ci sarà la Luna, alla fine la forza di gravità ovviamente dipende molto spesso dalla massa, anzi sia dalla massa che dal diametro, Mercurio e così via. Ok? E quindi me li ho ordinati per gravità. Se io li voglio ordinare per che ne so quali sono gli altri campi a distanza dal Sole, allora ovviamente li avrei avuti in un ordine diverso, la Luna che è la distanza più bassa non dal Sole ma dalla Terra intorno a cui orbita, poi avremo probabilmente Mercurio, ovviamente poi ci sarà più avanti Venere e così via. Ok? Allora, rispondo alle domande, Alexis mi chiede ma perché non potevi scrivere semplicemente Q uguale distanza o ad esempio gravità? Questo non funziona perché la funzione key è una funzione che estrae un valore semplice che possa essere confrontato da un dizionario che è una struttura di dati più complicata. Allora, se io scrivesse Q uguale a gravità starai dicendo guarda, tutte le volte che vedi un dizionario e vuoi confrontarlo, convertilo in gravità e l'altro dizionario lo converti in gravità e alla fine tutti i dizionari verrebbero sostituiti ai fini dell'orientamento, dell'ordinamento, continuo a sbagliare questa parola, ai fini dell'ordinamento verrebbero tutti convertiti nella parola gravità. Poi in realtà questo si blocca prima perché gravità a sua volta non è una funzione ma una stringa. Io devo proprio indicare una funzione che dica estraimi quel campo e la funzione che dice estraimi quel campo è appunto questa item getter. È una funzione che quando ha un dizionario sa che cosa può andare a legge da quel dizionario e restituisce in questo caso un numero e la funzione sort andrà a confrontare non i dizionari che non si può ma i numeri che sono stati estratti da questa funzione item getter. Ok. Maddalina mi chiede di mandare il programma che ho scritto finora, in realtà l'ho pubblicato ieri su Github quindi potete andarvelo a prendere, vi metto il link, c'era, aspetta eh, datemi un secondo, vi metto il link da cui potete andare a scaricare il programma così come l'avevo fatto ieri sera e sono tutti qua da scaricare ok, che sono qua, ti metto il link e poi ovviamente chiaramente se abbiamo aggiunto queste due righe. Quindi questo risolve, ci risolve tutti i problemi in altri casi in cui vogliamo, aspetta che qui c'ho un coperto con la finestra, in cui vogliamo ordinare una lista di dizionari sulla base di un singolo campo di un dizionario. Questo singolo campo chiaramente sarà indicato come come stringa, no? Quindi item getter tra parentesi in nome del campo. Questo funziona, questo attributo key funziona sia con la sort che con la sorted ovviamente e ogni volta posso ordinarlo in criteri diversi. Alla fine i dizionari sono sempre loro ma vengono semplicemente confrontati usando un criterio diverso. Questa funzione item getter in realtà è anche più utile rispetto a questo caso specifico, perché può anche funzionare quando dobbiamo ordinare una lista di liste o una lista di tuple. Chiaramente quando parliamo di ordinare stiamo sempre parlando di una lista, una lista in cui voglio ordinare gli elementi. Qualora gli elementi siano dei numeri o delle stringhe funziona sort e basta. Qualora gli elementi siano dei dizionari funziona item getter con la specifica del campo del dizionario, qualora gli elementi da ordinare siano a loro volta liste oppure tuple, che alla fine da questo punto di vista sono uguali, immaginate questa, ho una serie di posizioni e le voglio ordinare, ma le ordino secondo il primo campo o secondo il secondo campo? Allora anche qua la funzione item getter si può usare anche quando la struttura dati è una lista di liste e non una lista di dizionari, semplicemente questa volta l'argomento da indicare non sarà la stringa da usare come chiave del dizionario per andare a pescare il valore che ti interessa, ma sarà l'indice della lista interna sulla base del quale fare l'ordinamento. e quindi se ho un item getter di 0, ordinerà sulla base del campo 0 e quindi vedete il risultato è una lista sempre di liste, le cui liste interne sono ordinate prima la A, poi la B, poi la C sul campo 0, sul primo campo. Mentre invece ordinando la stessa insieme di caselle sulla seconda colonna, quindi item getter di 1, otterrò gli stessi item dove prima ho gli elementi che sono ordinati, raggruppando 1, 2, 3, i valori del secondo elemento, quindi di quell'indice 1. Quindi quando abbiamo una lista di strutture dati più complesse che possono essere dizionari o liste e vogliamo ordinarli sulla base di uno di quei campi, il modo veloce per farlo è usare questo attributo key in abbinamento alla funzione item getter. Sono casi particolari, ma sono casi particolari abbastanza frequenti quando dobbiamo gestire i dati e ordinarli prima di stamparli o prima di elaborarli, ad esempio. E quindi un altro modo di trovare il pianeta che avesse la gravità massima era quello di ordinare la lista dei pianeti sulla base della gravità e poi stampare l'ultimo, ad esempio. Quindi era un'altra possibilità di risolvere lo stesso problema. In realtà quando devo calcolare un massimo o il minimo di qualche cosa, scopriamo che sia la funzione max che la funzione min anche esse hanno, visto che lavorano sulle liste, anche esse hanno la possibilità di avere un parametro opzionale che si chiama key, che funziona esattamente nello stesso modo del sort. Cioè dice qual è il criterio con cui trovare il massimo. E questo è molto comodo, perché io ho una lista di dizionari, voglio trovare il record più grande rispetto a un certo criterio. Voglio trovare il pianeta, dicevamo noi, che ha la gravità massima. Allora, per trovare il pianeta che ha la gravità massima noi lo sapevamo già fare, abbiamo scritto queste cinque righe ok? Di programma. Vabbè, il massimo l'ho intendito a zero, poi vado a vedere uno per uno i vari pianeti e poi c'ho la riga chiave che mi calcola il massimo, confronta la gravità del pianeta con il massimo della gravità che ho visto finora e mi devo salvare chiaramente sia il nome del pianeta su cui l'ho trovato, o l'indice, e sia il valore del massimo. Nulla di speciale queste cose qua, al di là del fatto che questi sono dei dizionari, le facevamo già nei primi settimane del corso. Ma in realtà, combinando, usando anche il parametro key, potrei semplicemente scrivere che il pianeta con la massima gravità uguale al massimo della lista di pianeti usando come chiave item getter di gravità e quindi posso anche qua stamparmi lo stesso messaggio, la massima gravità si trova su pianeta di massima gravità nome nome e vale pianeta massima gravità di gravità parentesi quadre gravità viene un po' lungo qua da scrivere possiamo che la massima gravità si trova su pianeta ecco, la distruzione chiave è questa col max in cui ho calcolato il massimo di una lista di dizionari usando un certo criterio di confronto questo criterio di confronto è appunto la forza di gravità e giustamente ovviamente per fortuna mi trova lo stesso pianeta di prima quindi sempre Giove questo solo per farvi notare non è la stessa cosa che se io avessi costruito una lista di numeri che contiene la gravità e poi avessi trovato il massimo perché in quel caso avrei trovato 23,1 cioè 23,1 è il valore numerico del massimo che è quello che fa normalmente la funzione max gli do una lista di numeri e mi dice qual è il numero più grande questo in realtà mi sta dando il dizionario l'oggetto intero il record intero questo mi dà l'oggetto pianeta non mi dà il numero non mi dice qual è il valore massimo della gravità mi dice qual è l'oggetto il dizionario che ha la gravità massima che è molto più utile perché a questo punto di questo oggetto posso andare a estrarre tutti i campi che mi servono tutte le informazioni che mi servono sulla base del criterio di quello che è quello che sia il massimo rispetto a a quell'attributo ok per rispondere alle domande Yu mi sta chiedendo se io avessi sia reverse che key come parametri di sort in che ordine devo mettere nell'ordine che preferisco quindi posso sia scrivere key uguale reverse uguale true sia al contrario prima reverse e poi key i parametri nominali quelli opzionali che hanno un nome si possono sempre inserire in qualunque ordine quindi è indifferente Alexis mi chiede con questa funzione si può estrarre un valore preciso e tutte le informazioni sono associate si penso che sia quello che stavo cercando di dire non mi calcola il massimo di un valore ma mi calcola l'elemento del dizionario l'oggetto che ha che esibisce questo valore massimo questo ovviamente se abbiamo una lista di dizionari l'item getter lo useremo col valore della chiave se avessimo una lista di liste ovviamente item getter lo useremo con un indice con un parametro un argomento di tipo intero che corrisponderà all'indice della lista su cui fare l'orientamento ma alla fine sempre c'è la cosa carina che mi ritorna sempre l'intera riga a cui corrisponde il massimo Rebecca il reverso uguale true dentro lo sort che cosa fa? fa l'ordinamento inverso quindi dal più grande al più piccolo anziché dal più piccolo al più grande quindi il reverso uguale true per una serie di numeri meglio ordina dal più grande al più piccolo per una serie di stringhe meglio ordina dalla z alla a praticamente quindi ordinamento inverso come fare un sort e poi subito dopo un reverse che mi rovescia all'ordine di elementi nella lista come corollario possiamo pensare e magari in alcuni casi può essere utile combinare item getter e enumerate enumerate non so se ve lo ricordate era una funzione che avevamo visto quando avevamo parlato delle liste essenzialmente e prende una lista qui ho fatto con l'esempio una semplicissima lista di numeri e se chiamo enumerate su questa lista di numeri lei mi crea una lista di tuple ok queste tuple sono fatte dal primo elemento della tupla che è sempre l'indice quindi vedete che è sempre che scende 0, 1, 2, 3 e il secondo elemento della tupla che è l'elemento dei dati che gli ho passato cosa vuol dire 0, 5 vuol dire che nella posizione di indice 0 c'era il valore 5 nella posizione di indice 1 c'era il valore 17 nella posizione di indice 2 c'era il valore 1 nella posizione di indice 3 c'era il valore 14 e così via quindi questa funzione numerate non fa altro che prendere un singolo valore e metterlo dentro una tupla in cui davanti ci mette anche l'indice della posizione in cui si trova è un po' quello che fa items con i dizionari l'abbiamo visto ieri se un dizionario chiamo la funzione items mi da una lista di tuple in cui prima o meno aumenta la chiave secondo il valore e numerate lo fa sulle liste non sui dizionari e quindi ho una serie di coppie diciamo così indice valore indice valore avendo questo io posso in un colpo solo usare la funzione max per trovare sia la posizione del massimo che il valore del massimo in una lista in questo caso di numeri o di string lo sapevamo già fare con un ciclo while questo non è un grosso problema però ci semplifica un po' la vita dire io voglio trovare il massimo di questa lista allora facendo max di casuali mi da 19 ok 19 è qua ma poi dov'è il 19 allora c'erano due famiglie quelli che dicevano ok allora facciamo casuali.index 19 andiamo a cercare qual è l'indice del 19 sì si può fare però è un lavoro doppio perché prima ho dovuto guardarmi la lista per trovare dove era il massimo con la funzione max e poi mi devo riguardare la lista con la funzione index per trovare dove è il 19 queste due operazioni in realtà le posso fare in un colpo solo calcolando il massimo non della lista iniziale bensì calcolando il massimo della lista di tuple che ottengo tramite numerate ovviamente poiché è una lista di tuple per calcolare il massimo devo dire alla funzione sort qual è l'elemento della tupla sulla base del quale fare l'ordinamento che sarà ovviamente il secondo indice 1 quindi io faccio un giro un po' lungo prendo una lista di numeri la converto in una lista di tuple con le numerate in cui a fianco ciascun numero del suo indice poi chiedo di ordinare questa lista scusate di ordinare trovare il massimo di questa lista lista di tuple di cui uso come criterio di confronto per trovare il massimo il secondo elemento quindi andrò a confrontare il 5 con il 17 con l'1 con il 14 esattamente gli stessi di prima ma lo sto facendo su questa lista e quindi la posizione massima che sarà poi questa 12-19 mi viene restituito come il valore in cui si trova il massimo cioè l'intera tupla e avrò quindi una tupla in cui ho l'indice 12 e il valore 19 della posizione massima quindi questo mi evita di dover fare due volte il lavoro prima trovo quanto vale il massimo poi scopro dove si trova qui in un colpo solo mi dice quanto vale e dov'è è una combinazione appunto di item getter di 1 e numerate lo potevamo prima non lo potevamo fare perché semplicemente usando il numerate avremmo trovato questo ma un sort su questa lista per default confrontando le tuple avrebbe confrontato il primo elemento l'indice e quindi mi avrebbe dato mi avrebbe fatto un confronto per indice invece io voglio un confronto per valore e lo posso fare andando a modificare qua il criterio di ordinamento quindi sono di nuovo nel caso particolare nel caso particolare se ci capita un caso in cui diciamo ci serve trovare il valore la posizione di un massimo che non è poi così inusuale lo possiamo fare ricordandoci se è una lista di valori semplici la possiamo usare con il numerate se fosse una lista di dizionari invece semplicemente ci usiamo la sort oppure max con item getter così come abbiamo fatto nel nostro esercizio e questo grosso modo copre i vari concetti le varie funzioni che ci servono per usare di base per poter lavorare sui dizionari aggiungere a questo punto non ci rimane che fare qualche esercizio per allenarci un pochino per capire un po' meglio questi sono ancora esercizi mirati sui dizionari poi dalla settimana prossima invece faremo esercizi complessivi sul programma d'esame di fatto il programma d'esame l'abbiamo finito in questo momento ok quindi adesso in avanti ci rimane solamente più da impratichirci esercitarci allora proviamo a fare almeno iniziare vediamo fino a che punto riusciamo ad arrivare gli esercizi che sono proposti qua sulle slide dove si parla di strutture date complesse allora non spaventiamoci quando qui c'è scritto strutture date complesse non vuol dire che dobbiamo imparare delle cose in più semplicemente quando dobbiamo memorizzare rappresentare dei dati reali e questi dati non sono mai semplicemente una lista di numeri saranno qualcosa di più complicato ricordate l'esempio dei film il file csv che avevamo usato come esempio la settimana scorsa in cui c'erano i dati dei film quindi era una lista di record che corrispondeva ogni record a un film e ciascun film a sua volta aveva il titolo e va bene era una stringa aveva l'anno di pubblicazione e va bene un numero ma poi aveva l'elenco degli attori che a sua volta era una lista di stringe quindi per poter rappresentare bene quei dati occorreva creare una lista di dizionari nei quali in corrispondenza ad alcune chiavi il valore fosse stringa in altre chiavi il valore fosse intero in altre chiavi il valore fosse una lista a sua volta di stringe quindi stiamo in realtà combinando tra di loro i tipi elementari di strutture dati che conosciamo quindi noi abbiamo dei dati base che sono l'intero il float e la stringa e poi li stiamo combinando insieme creando liste creando insieme creando dizionali creando tuple quindi quando parlo di strutture dati complesse parlo di una struttura dati in cui sono combinati e mescolati tra di loro questi contenitori elementari dove dentro un contenitore ci può stare un contenitore di un altro tipo o dello stesso tipo fino a creare una struttura dati effettivamente su più livelli su più livelli di complessità e poi alla fine spesso si si ripetono questo tipo di strutture dati quella più semplice che troviamo tantissimo è appunto la lista di dizionari però possono essere i dizionari di insiemi possono essere beh la lista di liste l'abbiamo già vista quando facevamo le tabelle quindi era anche quello un primo esempio molto limitato di una struttura dati complessa vediamo alcuni esempi proviamo dal primo esempio che viene proposto qua che è quello della creazione di un indice analitico di un libro ok allora immaginiamo di avere un file di partenza che sia questo chiaramente magari più lungo però questo è quello del nostro esempio in cui c'è scritto che nella pagina 6 c'è un determinato termine nella pagina 7 c'è un determinato termine nella pagina 7 c'è un altro termine nella pagina 7 c'è un altro termine ancora e così via quindi chi ha scritto il documento chi ha scritto il libro si è segnato i termini importanti che venivano trattati in ciascuna pagina e quindi per ciascuna pagina qui abbiamo costruito in un file l'elenco dei termini importanti che sono presenti su quella pagina lì quindi è l'elenco dei termini importanti ordinati in qualche modo per pagina divisi per pagina lo stesso termine ovviamente può comparire più volte ad esempio example compare a pagina 7 ma compare anche a pagina 10 addirittura lo stesso termine potrebbe comparire più volte nella stessa pagina ma non c'è nulla di male può darsi e va bene e io ho questo come informazione di base quello che voglio costruire quello che mi chiedono di costruire è un indice analitico l'indice analitico è quello che trovate al fondo del libro che funziona al contrario in cui c'è l'elenco delle parole importanti dei termini importanti in ordine alfabetico e a fianco di ciascuno c'è l'elenco delle pagine in cui questo termine compare ordinato ovviamente per numero crescente di pagine quindi io voglio passare da questa informazione per ogni pagina mi dice un insieme di parole uno o più parole alla versione in cui per ogni parola mi dice l'elenco delle pagine che compare ok come possiamo fare adesso qui non lo facciamo non guardiamo le slide dove c'è già la soluzione ma proviamo a ragionarci insieme quindi il file su cui dobbiamo lavorare è quello che vi ho condiviso prima della lezione index data eccolo qua allora cosa dobbiamo questi sono i dati di partenza dovrò ovviamente leggere questo file e costruire una struttura dati in cui mettere questi dati man mano che arrivano e che mi permettono poi di stampare l'indice analitico nella forma che mi serve allora qual è una struttura dati adatta a questo problema beh io guarderei la soluzione cioè il risultato che devo ottenere il risultato che devo ottenere è un insieme di stringhe ok diverse a ciascuna delle quali è associato un insieme di numeri allora io potrei pensare di costruire un dizionario che usa come chiave il termine importante e come valore i numeri di pagina questi numeri di pagina cosa sono beh non posso usare un numero solo ma dovrà essere un gruppo di un elenco di numeri di pagina meglio ancora un insieme un set di numeri di pagina perché parlo di un insieme perché i numeri di pagina devono essere sicuramente univoci quindi anche se lo stesso termine comparisse tre volte fosse citato tre volte nella stessa pagina io nell'indice analitico non ci scrivo pagina 10,10,10 ce lo scrivo una volta sola ok quindi quello che posso creare che mi rappresenta bene l'output che devo generare è un dizionario quindi un array associativo che associa a ciascuna termine chiave l'insieme delle pagine in cui compare poi è ovvio che il dizionario avrà un ordine di inserimento degli elementi l'insieme delle pagine saranno disordinate per stamparlo metto poi un po' di sort nei punti chiave ma quello è il meno l'importante è avere la struttura dei dati quindi io posso pensare proviamo a aprire un nuovo programma chiamiamo indice analitico ok vogliamo creare quindi creiamo un un dizionario in cui le chiavi sia il parola chiave il termine importante da inserire e il valore sia a sua volta un insieme l'insieme che cosa contiene quindi lo metto che conterrà numeri di pagina che corrispondono a quel termine quindi se volessi fare un esempio io direi che l'indice analitico sarebbe un dizionario che come lo costruisco questo dizionario allora dico che la parola prendiamo proprio l'esempio della slide example compare alle pagine 7,10 poi la parola index compare alle pagine alla pagina 7 e basta però non metto 7 come numero metto sempre un insieme che contiene il numero 7 ok se io avessi questa struttura dati poi aggiungiamo ancora program 7,11 program 7,11 qui ho chiuso male le virgolette scusate quindi in questo caso ho un dizionario che uso come array associativo mi mappa la chiave cioè il termine col valore cioè l'insieme delle pagine in cui questo termine compare adesso qui l'abbiamo scritto tutto bello in ordine con le parole in ordine alfabetico e le pagine in ordine numerico non ci verrà fuori bello così per la lettura del file ma poi lo sistemiamo è solo per condividere tra di noi l'idea di ciò che vogliamo costruire strutture date complesse è un dizionario di insiemi o meglio un dizionario di chiavi stringa e valori insieme questi insiemi sono insiemi di numeri di numeri interi ok allora se questo è quello a cui vogliamo arrivare creiamo un programma che lo faccia quindi avremo il nostro indice analitico che inizia come prima della lettura del file non può far altro che iniziare come dizionario vuoto e poi ci andiamo ad aggiungere poco per volta i dati che leggiamo dal file quindi noi leggiamo with open il file si chiamava index data .txt in lettura encoding utf8 sf quindi apro questo file leggo una riga per volta da questo file quindi for line in file e questa linea questa riga la separo in due parti come fatto questo index data è fatto da un intero e una stringa separati da due punti ok quindi devo splittare questa stringa in due punti cioè in base al carattere due punti ecco qua quindi prenderò che i campi della riga li ottengo prendendo la linea cancellando la capo finale rstrip e dividendola in corrispondenza del due punti in cui quindi avrò la pagina che altro non è che il campo di 0 convertito in intero che è il primo campo e il termine la parola chiave sarà il campo di 1 lo scrivo li esplicito così solo per per comodità no per dargli un nome quindi qui sto semplicemente leggendo dal file e ho per ogni riga del file il numero di pagina e il termine ok rispondo a una domanda di madalina che mi chiede perché scrivo rstrip senza parametri anziché rstrip di barra n perché rstrip senza parametri oltre al barra n rimuove eventualmente se ci fossero anche degli spazi in fondo quindi cancella tutti i caratteri invisibili alla fine della riga anziché barra n cancellerebbe solamente il barra n se ci fossero degli spazi in più li conserverebbe in questo caso visto che mi interessa solamente dei termini preferisco se ci fossero degli spazi buttare via anche essi la definizione della funzione dice ritorno a una coppia della stringa col trailing white space removed quindi avendo eliminato tutto il white space e white space è un termine generico che indica spazi tabulazioni a capo tutti i caratteri invisibili se invece sono dati dei caratteri allora cancella solamente quelli che gli ho dato ok pagina termine quindi vogliamo mettere una print di verifica vediamo se fino a qua funziona il termine termine compare a pagina pagina page quindi proviamo a vedere se fino a qua funziona il termine type compare a pagina 6 il termine example compare a pagina 7 e così via quindi diciamo direi che siamo a posto termine set compare a pagina 20 e questo ovviamente è nell'ordine di apparizione del file man mano che leggo il file questo non è ancora l'indice analitico chiaramente perché io dovrei nell'indice analitico devo raggruppare type compare a pagina 6 ma anche a pagina 8 quindi qua devo mettere 6 e 8 insieme devo raggruppare tra di loro le varie pagine e per questo uso il dizionario allora cosa può capitare può darsi che questo termine che incontro non l'abbia ancora mai visto allora devo creare una nuova ente nel dizionario quindi se per caso il termine che ho letto non è nel dizionario non è ancora nell'indice analitico e ricordiamoci che l'operatore in sui dizionari va a controllare le chiavi non i valori allora lo devo aggiungere allora dovrò creare un nuovo elemento nel dizionario analitico termine allora uso come chiave del dizionario il termine che ho appena letto quindi si farò analitico di type uguale che cosa uguale un insieme che contiene la pagina se non sei scusate sei si ma in generale pagina quindi tutte le volte che vedo un termine che non avevo visto prima devo aggiungere una nuova entry al dizionario e questa nuova entry sarà definita con il come valore ci metterò l'insieme che contiene il numero di pagine in cui quel termine è comparso per la prima volta proviamo a stampare cosa abbiamo ottenuto fin qua non è completo ovviamente ma vediamo cosa abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto guardiamolo qua sotto l'ultima riga un dizionario in cui ci sono effettivamente tutte le parole chiave type example index program set che ho incontrato nell'ordine con cui le ho incontrate perché ricordiamoci che i dizionari mantengono l'ordine dell'inserimento delle chiavi e però ovviamente l'insieme contiene un elemento solo perché io ho aggiunto il numero di pagina solamente la prima volta che vedevo un termine ok c'è questo if che dice ok se il termine non c'è ancora crealo però se il termine c'è già e questa è la parte che ci manca se il termine c'è già cosa devo fare? allora la seconda volta che io vedo il termine type in una pagina nuova che non è più la pagina 6 cosa dovrò fare? dovrò aggiornare l'insieme associato alla parola chiave type che già contiene una pagina ne aggiungo una seconda quindi prenderò analitico di termine analitico è il mio dizionario di termine mi dà il valore associato a quel termine quindi in questo caso sarebbe l'insieme che contiene il 6 io ho questo insieme aggiungerò e quindi posso usare il metodo add per aggiungere l'insieme il numero di pagina quindi se il termine è la prima volta che lo vedo creo un nuovo insieme e creo una nuova entry nel dizionario se invece quel termine c'è già allora non creo nessun insieme nuovo ma semplicemente aggiungo un elemento a un insieme che esiste già e qual è l'insieme che esiste già? beh quello che ottengo andando ad accedere al dizionario nel posto giusto e se io faccio eseguire questo programma nuovamente trovo che appunto type la prima volta mi ha creato il dizionario con la pagina 6 ma poi quando ho incontrato la seconda volta il termine type ha fatto sì che al dizionario venisse aggiunto anche il valore 8 poi come sappiamo i valori di dizionario sono disordinati quindi non rispettano l'ordine con cui sono stati inseriti così come example era composta due volte quindi avrà in corrispondenza un insieme che compare con tutti i due elementi index invece compare una volta sola quindi dopo che ho creato inizialmente questo set non l'ho più toccato e rimarrà così questo è il modo più sintetico qualcun altro avrebbe potuto dire analitico di termine uguale analitico di termine che ne so ad esempio union pagine è un altro modo faccio l'unione tra due insiemi l'insieme delle pagine esistenti con l'insieme della nuova pagina che che ho scoperto e quindi creo un nuovo insieme e aggiorno il contenuto del dizionario con questo nuovo insieme al posto di quello vecchio in questo caso era un pochino più lungo chiaramente il metodo più semplice era semplicemente aggiornare l'insieme esistente non crearne uno nuovo facendo l'unione facendo la somma eccetera ma diciamo così dal punto di vista del risultato erano corretti entrambi quindi noi siamo arrivati ad avere questa struttura dati complessa come l'abbiamo chiamata nelle slide che contiene tutte le informazioni per stampare l'indice analitico che è questa noi lo vogliamo stampare un pochino più in bella e quindi dovremo stampare ordinare le stampe innanzitutto per ordine alfabetico della parola chiave e poi stampiamo i numeri di pagina su una stessa riga separati da virgola in ordine numerico crescente vabbè ma questo è facile basterà a questo punto che noi cicliamo sul sul dizionario ok andando a prendere i vari termini all'interno dell'indice analitico ordinato allora ricordiamoci quando cicliamo su un dizionario in realtà stiamo ciclando sulle chiavi del dizionario a meno che non usiate punto items stiamo sempre ciclando sulle chiavi sorte delle chiavi mi da la lista ordinata alfabeticamente delle chiavi stesse le pagine sono l'insieme che contiene le pagine corrispondenti a un certo termine le ottengo andando ovviamente a interrogare ad accedere al dizionario alla posizione del termine corrispondente e l'elenco delle pagine a questo punto è un insieme io posso fare una join sull' l'insieme sull'ordinamento crescente dei numeri presenti in quell'insieme quindi le pagine da stampare l'elenco delle pagine lo posso ottenere usando una funzione join dell'ordinamento delle pagine e quindi potrò stampare a questo punto semplicemente poi andiamo passo passo su questa parte qua per capirlo meglio che il termine termine compare in questo elenco di pagine facciamo un run e poi lo ragioniamo un passo per volta infatti non funziona hai ragione tu perché ok andiamo un passo per volta così capiamo anche l'errore insieme allora arriviamo fino a qua in modalità debug fin qua spero sia chiaro analitico così vediamo come è fatto è il nostro dizionario guardatelo qua sotto che contiene una entry per ogni parola chiave alla entry tipo type è associato come valore un set di due elementi l'8 e il 6 a example è associato un set di 10 e 7 e così via questa è la nostra struttura dati che volevamo costruire poi stiamo iterando dentro sorted di analitico quindi abbiamo considerato le chiavi del dizionario in ordine crescente e quindi il primo termine che mi capita sotto mano è example che all'interno del dizionario non è la prima parola in ordine di apparizione ma è la prima in ordine alfabetico example e ho fatto accesso a analitico di termine per ottenere pagine che è il set che in questo caso contiene solamente un numero solo cioè solo il 20 no scusate l'example è questo il set contiene 10 e 7 ok quindi questa pagina questa variabile pagina che è anche riportata qua sotto è un insieme che contiene i numeri 10 e 7 allora io cosa che devo fare devo convertire questo insieme di due numeri nella stringa 7,10 pensavo di farlo così semplicemente ma in realtà non funziona perché qui quello che volevo fare era pagine era 10 e 7 l'insieme sorte di pagine era la lista 7,10 e fin qua è giusto se non ci crediamo verifichiamo nella console di python se io ho pagine uguale l'insieme 7,10 ok se io scrivo sorted di pagine quindi pagine è un set la funzione sorted applicata a un set mi dà una lista con gli stessi elementi del set ma ordinati dal più piccolo al più grande quindi fin qua è giusto l'errore che ho fatto è di pensare di poter fare una join con una lista di interi invece la funzione join funziona benissimo funziona se la lista è una lista di string allora dovrò fare un passaggio in più dovrò convertire questo 7 e questo 10 in string dopo che l'ho ordinato non devo convertirlo in string prima e ordinarlo dopo per ordinarlo devono essere numeri se no l'ordinamento è alfabetico non numerico lo ordino poi lo converto in string e poi faccio la join per poterlo stampare quindi spezziamo in più parti questo codice quindi ho l'elenco delle pagine come insieme quindi ho una lista delle pagine la posso ottenere con un sorted dell'insieme questa lista delle pagine però la devo convertire in una lista di string e non una lista di interi ma è un modo più veloce per poterlo fare è usare una comprehension in cui converto un str di x tutte le x che sono dentro la lista delle pagine sostituisco ciascun elemento x della lista delle pagine l'elemento che ottengo convertendo quell'intero che ho chiamato genericamente x in una stringa allora a questo punto dovrei poter essere in grado di usare lista pagine nel metodo join in modo da poter mettere insieme se questa lista continua in un elemento metterli insieme tutti in un'unica stringa separati da virgola mi ero dimenticato questo passaggio di conversione in stringa quindi vediamo un po' se adesso funziona torniamo nel run e sì direi di sì perché l'output finale che ottengo è questo che dovrebbe essere ciò che ci aspetteremo ad esempio l'index program 7 sono in ordine alfabetico crescente 7 10 7 11 6 8 sono in ordine numerico crescente separati da virgola e la virgola ovviamente c'è dove serve e non c'è quando non serve cioè quando un elemento solo quindi in queste righe di codice dalla 30 alla 35 abbiamo diciamo così ci siamo occupati dell'output della costruzione in output di questo dizionario di questo indice analitico scusate dove la difficoltà principale è stata la formattazione cioè mettere in ordine le cose mettere le virgola al posto giusto ma è stato molto facile perché avendo i dati già strutturati nel modo giusto dizionario in cui le chiavi sono esattamente i termini che voglio stampare i valori sono esattamente l'insieme delle pagine da stampare già così mi ha semplificato la vita nella parte di output ovviamente tutti i dettagli della formatazione delle virgole degli a capo delle stringhe invece questi non me li può risparmiare nessuno ci sono domande e dubbi su questo esercizio che abbiamo fatto l'idea chiave è stata memorizziamo i dati in questo modo dizionario di insieme poi abbiamo costruito due metà del programma questo è il cardine di questo esercizio questo è il punto cardine poi abbiamo scritto un po' di righe di codice per costruire questa struttura dati che poi alla fine è questa e un po' di righe di codice per stamparla nel modo opportuno se avessimo pensato una struttura dati diversa probabilmente avremmo faticato di più sia per leggerla sia per stamparla cioè ogni volta va pensata la struttura dati che sia più adatta al problema che stiamo risolvendo dunque Francesco ha scritto qualche cosa nella chat una sua versione del programma però mi dice non ordina le pagine perché l'errore che fai è scrivere sorted listapagine dove quando fai sorted listapagine listapagine è già una stringa una lista di stringhe e quindi stai riordinando quella lista sulla base dell'ordine alfabetico e quindi ti verrà sicuramente 10 prima di 7 e 11 prima di 7 quindi nella join vedi che qua non c'è più il sorted l'ho tolto se facessi sorted di questa lista di stringhe rovinerei l'ordinamento che ho fatto prima sui numeri questo sorted sui numeri è il motivo principale per cui quando ho letto il file ho scritto int per leggere il numero di pagina perché se non dovessi ordinare in modo crescente per numero di pagina ma che me frega a me di convertire la pagina in intero sì per pulizia per ordine va benissimo ma se non lo prendo come string lo stampo come string e mi risparmia due operazioni invece no lo leggo come string ma poi lo converto come intero perché ma perché dopo dovrò ordinarli col criterio dell'ordinamento numerico non quello delle stringhe in modo che questo sorted lavori con liste di interi poi purtroppo se una lista di interi non piace la join e allora per fare un favore la join ritorno a fare una lista di stringhe ok quindi questo è un esempio in cui abbiamo mescolato no dizionari insiemi e alla fine liste che ci servivano per tramasare le informazioni da una parte all'altra no ogni volta che faccio un sorted tira foro una lista quando devo convertire gli elementi uso una comprehension e così via e tra l'altro non l'abbiamo diciamo riaccennato nelle slide ma la sintassi come comprehension funziona con le liste ma funziona anche con le tuple anche con gli insiemi anche con i dizionari ok quindi se avete bisogno di creare al volo un dizionario una lista un insieme di fatto copiando e trasformando elementi di una lista dizionario insieme di partenza si può usare la sintassi della comprehension l'unica differenza ovviamente è che le parentesi anziché tonde saranno quadre anziché quadre saranno tonde o graffe per creare le strutture dati diverse ok allora se non ci sono altri dubbi su questo esercizio magari possiamo almeno iniziare ad impostare quello successivo che è riportato qua nella slide dalla pagina 102 che parla di un negozio che vende una catena di negozi che vendono gelati dice vogliamo estrarre i dati da un file di testo che rappresenta le vendite annue di differenti gusti di gelato in diversi negozi di una catena di gelaterie ciascuna riga del file rappresenta un gusto ciascuna colonna rappresenta un negozio ok ciò che vogliamo fare è elaborare i dati in modo da produrre un report simile a quello seguente ho i vari gusti ho le varie colonne che rappresentano il primo il secondo il terzo negozio a fianco ho una vendita totale del singolo gusto quindi cioccolato ne avrà venduto 10.000 queste sono vendite quindi ha incassato 10.000 euro o dollari nel primo negozio 9.000 nel secondo 9.500 nel terzo in totale abbiamo incassato 28.000 euro dalle vendite di gelato al gusto di cioccolato e viceversa vaniglia avrà venduto 8.500 7.200 8.900 in totale ho venduto 24.000 dollari di gelato alla vaniglia e in più voglio anche aggiungere una colonna in cui ci siano le somme degli incassi per negozio quindi negozio 1 negozio 2 negozio 3 negozio 1 avrà incassato 42.000 dollari per la somma degli incassi dei vari gusti ok allora anche qua come possiamo rappresentare i dati questa struttura dati e quali dati rappresentiamo ok allora conviene secondo me rappresentare i dati principali cioè questa parte della tabella da cui poi possiamo calcolare i totali i totali li possiamo sempre calcolare in un secondo momento quindi questa parte della tabella di fatto è come fosse una tabella che ha 5 righe e 4 colonne però forse non è comodo rappresentarla come tabella cioè come lista di liste forse è più comodo rappresentarla come dizionario anche qua che associa a ciascun gusto la lista dei negozi potrei rappresentarla così copia guardiamo il disegno che c'è già sulle slide per brevità io posso trovare un dizionario che mappa i nomi dei gusti sulla lista delle vendite quindi la chiave del dizionario è una stringa che rappresenta il nome del gusto il valore del dizionario è una lista di 3 elementi che corrisponde la quantità venduta in ciascuno dei 3 negozi quindi in questo caso ho un dizionario di liste i cui valori sono liste di numeri reali queste liste sono a loro volta contengono numeri reali cioè rappresentano le vendite poi una volta che ho questo chiaramente per fare il totale venduto di cioccolato farò la somma di questa lista qui semplicemente invece per avere il totale del primo negozio o del secondo negozio dovrò fare la somma chiaramente di tutti gli elementi del dizionario di tutti i values però nella colonna 1 e vabbè si fa con un ciclo ok quindi però questo lo dobbiamo fare ovviamente partendo da un file di testo questo icecream.txt dove i dati sono formattati in questo modo allora anche qua possiamo provarci no c'è un gusto per ogni riga separati da due punti con quattro campi separati da due punti allora possiamo provare a iniziare un nuovo file gelati dove leggiamo il nostro file ci costruiamo quindi abbiamo detto un dizionario con chiavi string e valore liste quindi questo dizionario lo chiamiamo vendite e lo inizializziamo chiaramente con un dizionario vuoto poi man mano che leggiamo dal file lo andremo a riempire questo è più facile da riempire perché è più regolare o esattamente lo stesso numero di colonne in ogni riga e ogni riga del file corrisponde a un nuovo elemento del dizionario non ho il dubbio è nuovo oppure non è nuovo non può comparire più volte lo stesso gusto di gelato in questo caso quindi with open ice cream che è il nome del file perché non tiene i dati in modalità lettura encoding as f for line in file a questo punto estraggo i campi uguale line punto r strip punto split su due punti ok allora a questo punto ho una riga in cui il campo di 0 è il nome del gusto e i campi di 1 2 3 saranno i nomi saranno gli incassi dei tre negozi allora per far questo a questo punto posso aggiungere al dizionario vendite vendite aggiungo un nuovo item la cui chiave cos'è campi di 0 quindi la chiave che inserisco corrisponde al primo campo della riga e il valore è una lista quindi ci metto dentro questo dizionario con chiave campi di 0 una lista fatta da campi 1 campi 2 campi 3 convertiti in float però float campi 1 e di 1 float campi 2 float campi 3 quindi ogni volta che leggo una riga del file aggiungo un item al dizionario e già che ci sono leggo i dati li converto in float e li metto in una lista quindi il risultato che ottengo dopo questa lettura di questo dizionario che si chiama vendite sarà dunque andiamo a fare run di gelati gelati run sarà questo vaniglia 8500 7200 8900 vedete la struttura dizionario chiave valore chiave valore la chiave è sempre una stringa e il valore è sempre una lista di float e quindi a questo punto non ci rimane che mettere in bella questi risultati li dobbiamo stampare mi pare che sulle slide ce li facesse stampare in ordine alfabetico di gusto quindi anche qua iteriamo sul gusto insorted di vendite e dovrò stampare a questo punto i vari i vari valori e quindi potrò fare una print del gusto iniziamo a stampare il non allineato stampare gusto e poi avere le tre vendite e quindi vendite di gusto di zero vendite di gusto di uno vendite di gusto di due cosa stiamo facendo qua vendite è il dizionario gusto è la singola chiave vendite di gusto è il valore associato a quella singola chiave che per la sua volta è una lista e quindi posso estrarre il primo elemento zero il secondo elemento uno il terzo elemento due di quella lista se non sbaglio quindi posso stampare questa cosa qua che alla fine è il file di partenza dobbiamo solo poi allinearlo mettere un po' meno la formatazione poi in questo caso devo anche calcolare la somma allora aggiungo un'altra colonna che può essere la somma è facile da calcolare perché la somma dei valori cioè somma degli elementi presenti nella lista che corrisponde al valore di quel gusto a parole diventa contorto devo semplicemente fare il sum di questi tre numeri qua e questi numeri non sono altro che vendite di gusto vendite di gusto fatemi andare a capo da qualche parte se no questa riga diventa troppo lunga come ultimo elemento ci aggiungo anche il valore somma delle vendite di quel gusto lì allora gusto è la chiave vendite di gusto perdon qui ci sono le parenti di quadrate vendite di gusto è il valore corrispondente alla chiave cioè la lista di valori venduti sum fa la somma di quella lista e quindi dovrebbe saltar fuori già anche la somma di ciascune righe poi come detto dobbiamo incolonnarle aggiungere gli spazi eccetera Marco mi chiede e se non conoscessimo il numero di elementi corrispondenti al campo ok se non conoscessimo il numero di elementi quindi in questo caso sono sempre tre elementi ma in altri casi potrebbero essere di più devo fare dei cicli while o dei cicli for per andare a prendere tanti elementi quanti ce ne sono sia sopra quindi qua non potrei più fare un float di campi eccetera eccetera ma potrei semplicemente prendere campi di uno o due punti cioè dal primo in avanti tanti quanti ce ne sono e li metto in una lista poi devo convertirlo in float quindi devo fare un piccolo ciclo per convertire stringa in float o una comprehension e anche qua non posso dire zero uno o due devo fare un ciclo for in cui li stampo uno per volta fino a quanti ce ne sono fino alla length della stringa quindi il caso generale ovviamente uno potrei non sapere quanti negozi ci sono ma magari i negozi sono sempre gli stessi cioè ci sono sempre sette negozi per tutti i gusti la caso ancora più complicato è quello in cui magari in ogni riga del file possa avere un numero diverso di elementi allora in quel caso chiaramente diventa impossibile incolonarli nella stampa ma li posso tranquillamente rappresentare se so quanti sono e sono pochi li posso enumerare uno per uno chiamare per nome 1 2 3 0 1 2 se invece sono il numero ignoto li gestirò con dei cicli oppure del slicing per stare un pezzo oppure della comprehension qui avrei potuto fare una comprehension del tipo campi di 1 2 punti tutti i campi da lì in avanti e allora che siano 3 che siano 4 che siano 5 mi da la lista contenente tutti i campi poi me li restituisce come stringa io invece li vorrei come come float allora probabilmente questa cosa qua io la metterei dentro una comprehension in cui calcolo la float di x 4x in campi di 1 2 punti allora questo fa la stessa cosa di sopra con un numero di campi qualsiasi poi se non mi viene in mente di fare lo slicing e la comprehension posso usare un ciclo 4 li prendo uno per uno li converto e faccio l'append questo non è un problema ok in questo caso erano 3 quindi abbiamo potuto lavorare direttamente con quel numero alla fine di tutto però devo ancora stampare i totali per negozio allora come faccio a calcolare il totale del primo negozio il totale del primo negozio dovrebbe essere la somma delle vendite di tutti i gusti per quel negozio lì allora il modo più semplice è fare una somma somma negozio somma uguale 0 for gusto in vendite a questo punto non mi interessa di ordinarlo somma uguale somma più vendite di gusto di 0 e questo mi dà la somma delle vendite del primo 42.691 che dovrebbe essere questo valore qua del primo quello inizio 0 poi lo devo fare tre volte per i tre ripetere questo calcolo di somma per i tre negozi quindi dovrei avere posso inserire a questo punto un ciclo for negozio negozio in range di 3 allora faccio questa operazione qua per ciascun negozio quindi la prima volta l'indice 0 l'indice 1 l'indice 2 e ovviamente stampo questa somma senza andare a capo e quindi mi dà questi tre valori quindi ho tutti i dati giusti andando anche qua a usare accedere alle singole parti del dizionario o alle singole parti della lista quando questa lista era all'interno del valore del dizionario stesso devo solo quando scrivo queste espressioni qua capire bene a che punto sono questo è un dizionario questa è una chiave questa è una lista questo è l'indice questo è un numero reale che corrisponde al numero reale in quella posizione di indice 2 della lista che è il valore corrispondente al gusto se ho a mente come sono anni dati come sono incasellati i dati diventa poi facile diciamo così accedere e capire cosa devo fare ecco l'ultimo passaggio è quello della messa in bella e lo faccio semplicemente usando una stringa formattata in cui stamperò ad esempio il gusto le stesse cose di prima ma le metto in una stringa formattata in cui posso poi indicare che il gusto lo voglio su che non so 25 caratteri come stringa e poi segue le vendite di gusto di 0 e questo qua ce l'avrò su dunque sono 5 caratteri 6, 7, 8 mettiamone 10 per sicurezza di cui 2 come parte frazionaria quindi ho tutti i codici di formattazione delle fstring poi questo qua si ripete 3 volte gusto di 0 gusto di 1 gusto di 2 e poi aggiungerò ancora la somma delle vendite di gusto anch'essa formattata nello stesso modo dunque c'è qualcosa che non va perché mi segnala un errore cosa ho sbagliato in qua sembra giusto sum 20 di gusto forse non posso usare la funzione sum qua dentro vabbè allora me lo calco la parte somma uguale ah no scusate ho una chiusa tonda di troppo non andava benissimo c'era una chiusa tonda di troppo quindi posso tranquillamente usarlo quindi la stessa cosa adesso commento la print di prima e ho indicato nella formatted string le istruzioni di formattazione che per ciascuna variabile mi dice qual è l'ampiezza 25 caratteri tipo stringa 10 caratteri di cui 2 frazionari tipo floating point e mi permette di incolonarli così e la stessa cosa la posso fare sulla somma chiaramente interpolandolo in un fstring sempre con lo stesso tipo di formattazione e da cui però davanti devo mettere 25 caratteri bianchi quindi print 25 spazi spazio per 25 senza andare a capo e alla fine di tutto vado a capo una volta così però come sempre quando cominciamo ad aggiungere la formattazione ci perdiamo sicuramente in leggibilità perché tra virgolette parentesi graffe e codici di formattazione comincia tutto a incasinarsi quindi il mio consiglio è sempre quello di aggiungerlo come ultimissimo passaggio l'importante è ottenere i dati puliti poi una volta che ho i dati puliti metterli in bella è noioso è necessario però a questo punto ci concentriamo su quello sappiamo che la parte di calcolo di algoritmo è già giusta perché l'abbiamo già visto diciamo sui dati grezzi va bene allora abbiamo fatto un po' in fretta ma siamo riusciti ancora a inserire questo secondo esercizio nel tempo che avevamo a disposizione se avete domande al volo ci possiamo stare se no vi condivido subito i file e poi sulla chat e poi con più calma li carico sul sito in giornata differenza da 10.2 25 ah no perché 25 questo è una stringa questo è una stringa e quindi questo carattere S indica che è una stringa e davanti c'è il numero di spazi che questa stringa occupa quindi questo 25 sono 25 caratteri totali è l'ampiezza di questo campo mentre gli altri sono numeri reali quindi F sta per floating point e la formatazione dei numeri di floating point è fatta in questo modo il numero di spazi totali occupati e punto numero di cifre dopo la virgola ok? quindi a seconda chiaramente che siano interi reali o stringhe i codici di formatazione sono leggermente diversi l'avevamo visti nel capitolo sulle stringhe quindi se non sbaglio è un'unità 2 secoli fa però purtroppo sono sempre attuali non abbiamo il lusso di poterci dimenticare le cose c'è una domanda sulla chat di Zoom che ho visto solo adesso perché normalmente stiamo usando la chat di Slack di Mark che mi chiede se possiamo avere a disposizione fogli di brutta su cui concettualizzare il problema risolvere sì potete usare i fogli bianchi purché siano fogli bianchi ci potete scrivere pasticciare non li consegnate non fanno parte della consegna però li potete utilizzare più la stampa del foglio delle funzioni di cui abbiamo parlato che stiamo via via finalizzando in questi giorni ok se non c'è altro noi ci salutiamo e ci vedremo martedì prossimo per la giornata dei laboratori e mercoledì per la simulazione d'esame buon appetito a tutti